Esistono cinque bisogni fondamentali che governano il benessere di ogni essere umano psicologicamente perché io possa stare bene devo soddisfare questi cinque bisogni a livello fisico il mio corpo per stare bene ha bisogno di quelli che sono i quattro bisogni fondamentali dal punto di vista fisiologico ossia mangiare bere dormire respirare queste sono le quattro cose che se tolgo portano la morte fisica del mio corpo se tu togli uno dei cinque bisogni fondamentali porti alla morte mentale emotiva della tua mente della tua anima diciamo così quali sono questi cinque bisogni te li spiego nel video che ti sto per far vedere tratto da una delle 55 lezioni della masterclass di dipendenza emotiva ci vediamo alla fine del video parliamo dei bisogni quindi questo è un po un'introduzione ma non era un'introduzione come sempre non tutto quello che vogliamo ci serve davvero questa è una frase che dovresti stamparti nella mente perché troppo importante ricordarti che io potrei volere tantissime cose se ti ricordi quando mi ha parlato di desiderio ti ho spiegato che il desiderio non è qualcosa che per natura è positivo non è qualcosa che per natura ti serve non è qualcosa che per natura è per te ma è semplicemente qualcosa che tu pensi lo sottolineo che tu pensi è una tua idea una tua regola che te lo dice che ti farà stare bene che ti renderà felice che qualcosa di positivo punto tu pensi che sia positivo per quello lo desideri non perché di per sé quella cosa sia desiderabile in realtà secondo me non esistono cose desiderabili se vogliamo da un certo punto di vista anche se ci sono cose che oggettivamente sono coerenti con la nostra natura soddisfano davvero i nostri bisogni e quindi si dovrebbero essere oggettivamente desiderate perché sono ciò di cui abbiamo veramente bisogno ora qual è il problema il problema è che pensiamo di aver bisogno di cose tantissime delle cose che pensiamo di aver bisogno in realtà come vedrai perché i bisogni sono solo cinque che in realtà non ci servono e finiamo quindi per soddisfare bisogni che non ci servono e che quindi sono tra virgolette sbagliati ora con sbagliato non voglio dire che sia una cosa che non va bene molte si sono cose dannose abbiamo visto quando abbiamo parlato delle dipendenze la dipendenza è un desiderio l'inizio di qualcosa di cui non hai bisogno o meglio non nella forma in cui pensi che ti serve poi diventi schiavo di quella forma che siano persone relazioni cose oggetti sostanze posti luoghi attività non ha importanza una dipendenza è sempre distruttiva per semplice fatto che come ti avevo detto in quella lezione altra lezione secondo me importantissima ti rende schiavo ora bisogno sbagliato vuol dire che non è qualcosa di cui ho bisogno è qualcosa che potrei dire ma mi piace è gradivo è gradevole ti ricordi quando abbiamo parlato dei desideri ti ho parlato delle preferenze cioè io posso preferire un cibo o un altro ma non è che io ho bisogno dell'uno dell'altro io potrei aver bisogno di mangiare ma non ho necessariamente bisogno di un cibo specifico questo mi fa venire in mente un libro che ti avevo già citato i miei martedì col professore in cui c'era questa storia dove ho detto di questo professore una storia reale che scopre di avere una malattia degenerativa quindi destinato a morire a distanza di pochi mesi e comincia a condividere la sua esperienza anche con questo ragazzo che era stato un suo levo ai tempi del college e praticamente a un certo punto gli dice gli fa mitch perché il ragazzo si chiamava mitch tu hai fame ma vuoi un frappè un frappè al cioccolato ma tu non hai bisogno di un frappè al cioccolato hai bisogno di mangiare il frappè al cioccolato non è un bisogno reale ti hanno fatto credere che ti serve frappè al cioccolato perché qualcuno dice lui professore morris morri lo chiamavano vuole venderti frappè al cioccolato ti devi muovere bisogno di una macchina non hai bisogno di una porsche di una ferrari o di quell'altro modello hai bisogno di un mezzo per spostarti ma ti hanno fatto credere che tu abbia bisogno di quella macchina per sentirti maschio uomo forte potente bla 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 e questo vale per tantissime altre cose ovviamente sto citando a braccio e a memoria che ho letto un paio di volte ma non è che mi ricordo delle parole testuali ma questa mi aveva colpito quella del del frappè al cioccolato c'era e questo è verissimo è verissimo noi abbiamo dei bisogni essenziali e poi una marea di bisogni costruiti bisogni falsi diciamo così sbagliati cioè cose che non mi servono a me non serve una bibita frizzante zuccherata io bisogno di bere liquidi e la miglior bevanda possibile è l'acqua punto non ho bisogno del vino non ho bisogno della birra non ho bisogno del caffè sono tutte cose che io ho imparato quando ero piccolo a cinque anni sei anni sette anni avrei mai pensato di aver bisogno del caffè per svegliarmi una mattina ma quando mai poi a un certo punto ti dicono che senza il caffè non studi non lavori non si è efficiente non rendi e quindi ti droghi perché il caffè secondo me è un'altra forma di droga o di dipendenza che non può farà meno di bere 10 caffè al giorno e vagli a togliere se fanno il test dei 30 giorni sul caffè ci sono persone che dopo 30 minuti si rendono conto di essere dipendenti magari lo sanno già per cui il punto è che sono finti bisogni finti bisogni torniamo alle nostre slide per cui questo è il problema non riconoscere quelli che sono i veri bisogni e l'errore è confondere i bisogni veri con quello che la nostra società o cultura ci insegnano come l'esempio per esempio del flappè del frappè di quella macchina di quel profumo di quel vestito ho bisogno dell'ultimo vestito no te lo dico chiaramente io ho finito di svuotare il mio armadio qualche settimana fa otto tutti i vestiti che ho comprato negli ultimi dieci anni che non uso più ora nel mio armadio praticamente svuotato ci sono veramente tipo 30 40 cose punto avrò tre pantaloni avrò che ne so parecchi camicie questo non tante tipo sei sette camicie ma nei consumer che li uso tanto le magliette calze quello che mi serve punto la domanda è dovrei andare ogni mese a comprare un nuovo vestito se voglio farlo lo posso fare ma non è un bisogno non ho bisogno di comprare il mio sesto pantalone non ho bisogno di comprare un vestito nuovo ogni volta che vado a un matrimonio o una festa perché probabilmente il vestito costato per il matrimonio dell'anno scorso va benissimo non è un bisogno reale ovviamente tutto il sistema in cui viviamo ci fa venire voglia diciamo così ci fa pensare di aver bisogno di dover comprare una nuova cosa e parlo dei vestiti non è che ce l'ho col sistema dei vestiti e tutto il resto dell'abbigliamento della moda questo vale per tutto probabilmente io non ho bisogno di tantissimi di quei prodotti che attraverso l'obicità mi viene continuamente suggerito di che mi servono di cui dovrei assolutamente come dire approvvigionarmi perché ho bisogno di quelle cose ma in realtà non è vero non ne ho bisogno io dico che il 90 per cento delle cose di cui possiamo avere bisogno in realtà non ci serve è utile è comodo ma non è un bisogno non è una necessità reale in molte cose potrebbero neanche essere né comode né utile semplicemente ne prendiamo perché pensiamo che ci servono ora se ti guardi intorno noterai il proposito di pubblicità e comunicazione che si bastano sempre su una serie di bisogni che sono totalmente dannosi per esempio la prima cosa è la paura guarda fuori tutte le comunicazioni specialmente quelle istituzionali purtroppo anche prendi quella sulle sigarette per farti smettere di fumare su cosa puntano sulla paura per farti smettere di andare forte in macchina su cosa puntano sulla paura per dirti che devi rispettare le regole su cosa puntano sulla paura paura e punizioni paura e punizioni solo questo raramente vedi una pubblicità che punta sul sull'incentivo se ti comporti bene ottieni questo vantaggio fantastico sarebbe cominciare a crea far capire alle persone che fare le cose giuste non le devi fare perché sennò qualcuno ti picchia qualcuno ti punisce qualcuno ti fa la multa le devi fare perché tu ci guadagni insegnare una nuova cultura ma se tu guardi intorno i bisogni vengono stimolati sempre sulla base della paura spaventarti di quello che succederà se non fai quello che ti dicono ed è un pessimo sistema di comunicazione l'abbiamo visto con gli altri né comunicare con gli altri né creare rapporti di fiducia e come posso creare un rapporto di fiducia con una persona che cerco di spaventare la paura non è costruttiva ma ancora bisogno di approvazione le macchine compra questa macchina e tutti ti guarderanno sì per qual è il bisogno stimolare questo bisogno di avere gli altri che mi dicono sei figo giacomo sei bellissimo sei fantastico sei sexy sei desiderabile sei meraviglioso sei il migliore questo viene instillato ci creano attraverso le pubblicità ma non solo tutta la comunicazione i messaggi che arrivano i film tutto quanto non sto parlando della pubblicità commerciale in generale la nostra società anche quando va a fin di bene punta su una comunicazione che sollecita l'idea di aver bisogno di cose di cui non abbiamo bisogno come l'approvazione degli altri essere apprezzati e sentirci importanti per qualcuno tutte cose che sono finte in realtà poi ci arriviamo lo vediamo meglio oppure sul controllo anche la controllare questo controllare quell'altro avere il controllo della situazione essere tu che controlli tutto continuamente a stimolare bisogni in reale abbiamo visto che controllare non controlliamo niente in realtà tranne noi stessi e fino a un certo punto per cui i veri bisogni non sono quelli che ci vengono inculcati attraverso tutta la come dire tutti i messaggi che la nostra società ci manda sotto tutte le forme sotto tutti i punti di vista non solo parlo dei media ma anche il parlare con gli amici i genitori l'educazione tutto quello che ci viene trasmesso continuamente spinge su una serie di bisogni che poi ci rendono schiavi perché sono bisogni dannosi bisogni non positivi non bisogni fondamentali ma sono specialmente costruiti dalla nostra cultura e della nostra società nella nostra educazione anche quando parlo di cultura intendo anche quello e lo ripeto non necessariamente per un fine commerciale ma anche specialmente per un fine educativo quando mia mamma mi dice da piccolo stai attento a quello che dici perché poi gli altri ti prendono per spazio dicono che sei strano lei sta instillando in me il bisogno che gli altri mi dicano che vado bene non lo fa a fin di male ovviamente lo fa per cercare di inserirmi al meglio in un contesto in cui mi possa trovare meno in difficoltà ovviamente mia mamma non sto parlando in maniera specifica di lei ma parlo in generale delle mamme o dei genitori che di solito fanno questo lo fanno per cercare di darti gli strumenti per affrontare la società ma lo fanno perché per primi temono il giudizio degli altri hanno bisogno di sentirsi ok con quello che dicono gli altri e quindi ti insegnano la stessa cosa lo ripeto non è un processo cattivo è un processo sbagliato neanche loro si rendono conto di questo errore che il problema è pensare che certe cose siano dei veri bisogni quando non lo sono e la soluzione qual è capire quali sono i 5 bisogni fondamentali quei 5 bisogni che ti sto per mostrare e poi imparare a soddisfarli nel modo migliore e più sano possibile in modo sano e profondo perché ovviamente io posso cercare di soddisfare quei bisogni che ti sto per far vedere ed è quello che facciamo in continuazione in tantissimi modi partiamo da un presupposto fondamentale quando ti mostrerò i 5 bisogni fondamentali vedrai che sono cose che tutti cerchiamo ovviamente e sono quelle più essenziali cioè molte altre cose che noi stiamo cercando nella nostra vita molte situazioni eventi quello che vuoi che tu magari oggi cerchi lo cerchi perché è un mezzo attraverso il quale vai a soddisfare quei bisogni sono sempre quelli sono questi cinque sono fondamentali perché reggono tutto il resto qualunque cosa tu cerchi la cerchi nella misura in cui tu pensi che possa soddisfare uno o più di questi bisogni ma poiché nessuno ti ha mai spiegato quali sono è probabile che lo fa in maniera più o meno implicita più o meno inconsapevole o magari ti rendi conto di quali sono questi bisogni e quando li vedrai dirai ah beh sì ovvio giacomo grande scoperta hai fatto no non è nessuna scoperta ti posso dire che ho letto tanti libri e ho visto tante volte degli spunti ho messo insieme una serie di elementi che secondo me mancavano alcune cose soprattutto ho trovato una chiave di lettura diversa che è quella anche del quinto in realtà bisogno fondamentale soprattutto del senso di questi bisogni e adesso lo vediamo insieme torniamo sulle nostre slide per cui tutti cerchiamo di soddisfare questi bisogni il punto è capire esattamente quali sono avere chiaro qual è il bisogno perché quando io ho chiaro quali bisogni mi rendo conto anche del perché ci sono delle cose che cerco che desidero che mi attirano di più delle altre perché non è mai non è mai casuale quello che ci piace ricordalo sempre è sempre dovuto al fatto che io per una serie di motivi per la mia visione le mie regole decifro determinate cose situazioni persone comportamenti tutto quello che vuoi come capace di soddisfare un certo bisogno anche se non mi rendo conto di questo la mia mente questo processo lo fa per i cui bisogni che ti sto per mostrare non sono qualcosa di costruito per cui in un certo senso me le hanno insegnati secondo me questi sono bisogni che fanno parte della nostra natura sono parte integrante dell'essere umano e nessun essere umano senza questi bisogni potrebbe vivere una vita piena di conseguenza qualcosa che prima o poi arriverò a capire nel senso che mi renderò conto di aver bisogno di soddisfarli arriverò a un certo punto in cui sentirò che ci sono delle cose che devo soddisfare dei bisogni devo soddisfare delle cose che mi mancano se quei bisogni non sono soddisfatti e ci arrivo molto importante questo semplicemente tra virgolette perché sono qualcosa che fa parte della mia natura per stare bene in realtà non ti serve altro quando tu soddisfi questi cinque bisogni hai tutto e noi cerchiamo continuamente ciò che potrebbe soddisfarli quello che noi chiamiamo il tesoro quello che io chiamo il tesoro di cui parleremo poi sempre di più nelle prossime nelle prossime lezioni chiaramente come ti dicevo prima poiché nella nostra società ci riempie di finti bisogni questi finti bisogni non sono altro che quegli strumenti con cui noi cerchiamo di soddisfare questi bisogni fondamentali e ovviamente se noi comprendiamo bene questi bisogni a cosa servono e come poterli soddisfare in modo sano ci liberiamo ti libererai quando lo farai del bisogno di andare a rimanere schiavo di tutto quello che la società ci insegna e attraverso l'educazione e la cultura ci obbliga poi a cercare e non è qualcosa che ci fa stare bene in realtà allora partiamo dal primo bisogno è alla base questa è una piramide o una torre se vogliamo comunque sostanzialmente la forma di una piramide io ho scelto e questo è il bisogno che io metto alla base perché secondo me è quello più basilare cioè quello su cui poi si reggono tutti gli altri ed è la sicurezza noi abbiamo bisogno di sicurezza e cominciamo da questo tu dirai grazie bravo giacomo complimenti significa avere certezze e punti di riferimento una base solida per questo l'ho messo la base su cui costruire la nostra vita è un po come se io devo costruire una casa una metafora che ho preso più volte durante questo percorso e la mia sicurezza sono le fondamenta sulle quali vado a costruire questa casa e ci torniamo qua te lo dico e anche il discorso della libertà nel senso che abbiamo parlato di libertà nel secondo livello ti ho spiegato che tu sei sempre libero però per avere questa libertà tu devi avere questa sicurezza perché se io ho questa sicurezza cioè se io sono certo di quello che so so che è corretto io ovviamente sono in costante aggiornamento come abbiamo detto continuo a capire a comprendere a scoprire ho delle certezze quindi dei punti di riferimento ho la forza per affrontare le minacce sapere che le posso superare allora partendo da una sicurezza per cui io sono sicuro di me allora posso essere posso prendere pieno possesso di questa mia libertà utilizzarla al meglio perché a quel punto potrò veramente scegliere qualunque cosa io ritenga giusta perché ho la sicurezza dalla quale so che posso affrontare tutto ecco perché la sicurezza è fondamentale è un punto chiave sicurezza significa che io so che posso farlo ti ricordi che ti ho detto che tu puoi affrontare tutto se sei disposto ad affrontare tutto per essere disposto a affrontare tutto tu devi soddisfare prima di tutto questa sicurezza cioè devi avere delle certezze solide che ti diano la sicurezza di poter affrontare ogni cosa questo è il primo dei cinque bisogni fondamentali passiamo al secondo il secondo bisogno fondamentale è quello di avere una direzione cioè sapere qual è la direzione giusta in cui andare sapere da che parte andare anche quando trovi un bivio tante volte ti ho spiegato che noi ci avremo ogni istante a un bivio ti ricordi non dicevo amore o paura avere una direzione significa che tu ogni bivio sai prendere la direzione in cui va verso l'amore chiaramente e non quella in cui vai verso la paura perché la paura abbiamo detto mamma madre di ogni emozione negativa così come l'amore padre di tutte le emozioni positive di conseguenza tu devi avere hai bisogno di sapere sempre a ogni bivio qual è la direzione giusta per te quindi non solo la sicurezza quindi avere delle certezze solide che poi reggono la nostra direzione perché poi la mia direzione quindi sapere qual è la strada giusta ovviamente si fonda come è chiaro che sia sulle mie certezze che mi dicono che quella direzione è giusta quindi considerare che questi cinque bisogni sono tutti collegati tra loro è improbabile che tu possa soddisfarne uno e non soddisfare gli altri quando hai delle certezze automaticamente si trasformano in una direzione sicura quando io ho una serie di certezze so che quelle cose sono giuste ovviamente quelle cose mi diranno vai di qua piuttosto che di là ma se io non ho queste certezze se io non ho una direzione vuol dire che non ho neanche delle certezze perché quando io ho delle certezze sono una direzione e viceversa sono tutti collegati i cinque bisogni terzo bisogno quello di avere una visione sappiamo già che una visione è un insieme di regole e il mondo di regole che sta dentro di te che ti guida anche ne prende la direzione ancora una volta sono tutti collegati te lo ripeto e la visione è che devi saper riconoscere cosa è bene e cosa è male se vogliamo cosa è corretto e cosa è sbogliato se vogliamo andare ancora più in profondità cosa è giusto e cosa non lo è perché ovviamente se io so cosa è giusto questo mi farà prendere la giusta direzione se io so cosa è giusto lo baso su delle certezze cioè come faccio a dire quella cosa è giusta perché ho la sicurezza che quella cosa corrisponde alla realtà quindi ho delle certezze che mi danno la giusta visione che mi permette di riconoscere quello che è bene fare in ogni momento e questo mi da una direzione o se ho una direzione questa direzione mi dice qual è la cosa giusta da fare in ogni momento sono tutti collegati questo elemento essenziale ed è tutto quell'insieme io ho bisogno di avere una visione chiara e corretta vuol dire che l'insieme delle mie regole devono essere in grado di darmi l'indicazione di cosa veramente giusto per me e cosa non lo è di cosa veramente bene e cosa veramente male perché mi permettano di prendere sempre la direzione giusta a ogni bivio della mia vita perché ogni bivio quando dovrò decidere da che parte andare e questa decisione dipenderà prima di tutto dalla mia visione quindi ho bisogno di avere una visione chiara che mi permetta di fare la scelta giusta di andare nella direzione migliore ovviamente sia la mia visione che la mia direzione che la mia sicurezza dove portano sempre alla mia felicità cioè le mie certezze devono essere ciò che realmente mi rende felice la mia visione è un insieme di regole che devono veramente permettermi di fare le decisioni di prendere decisioni giuste la mia direzione deve essere quella che davvero mi porta passo dopo passo a vivere una vita felice altrimenti per quanto mi possa piacere il mio insieme di regole le mie certezze le mie direzioni io non arriverò mai dove voglio arrivare ognuno di noi ha una visione una direzione e delle sicurezze tutti ce l'abbiamo ma non è ma nella stragrande maggioranza dei casi purtroppo altrimenti saremmo vivremo in un mondo pieno di felicità gioia e serenità e benessere in realtà queste cose sono un'eccezione purtroppo se la se la guardiamo bene la maggior parte delle volte le nostre visioni la nostra direzione le nostre sicurezze sono errate non corrispondono alla realtà e quindi non ci permettono di arrivare alla felicità che cerchiamo quarto bisogno fondamentale che non può mai mancare come gli altri e che è collegato strettamente agli altri abbiamo visto quando abbiamo parlato di sicurezza ti avevo spiegato che poi mi dà la forza di procedere di affrontare le difficoltà quindi quando parlavamo anche di sentirmi sicuro nel senso di protetto rispetto a quello che può succedermi e la nostra forza cioè avere l'energia la determinazione il vigore il fuoco per affrontare superare tutte le difficoltà e i problemi questo è fondamentale se non ce l'hai ti blocchi per cui sicurezza direzione visione forza ma poi c'è il quinto bisogno fondamentale ovvero il senso la tua vita deve avere un significato un valore deve servire deve essere utile deve essere significativa non può essere inutile non può essere rilevante se la tua vita non fa nessuna differenza e che tu esista non cambia nulla allora tu ti sentirai inutile sentirei dire mamma io non serve a niente cioè non ho non ho un motivo non ho un perché cioè ci fossi non ci fossi sarebbe uguale la tua vita diventa indifferente l'indifferenza non è un'emozione positiva l'indifferenza significa che tu non conti nulla e noi come esseri umani se davvero siamo unici come dico come diciamo come pensiamo di essere non possiamo che avere un senso se non abbiamo un senso quella cosa non significa nulla e questi e torno qua sotto sono i cinque bisogni fondamentali tu per essere felice hai bisogno di sicurezza quindi avere delle certezze solide su queste poi vai a costruire la direzione cioè sapere da che parte andare nella vita la visione cioè sapere come riconoscere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato ciò che è corretto ciò che non lo è la forza per poter affrontare tutto non fermarti mai e quindi il senso per dare un significato profondo alla tua vita che la rende degna di essere vissuta e qualcosa di importante e che ha valore questi sono i cinque bisogni fondamentali lo sottolineo qua sopra non ti serve altro tutto ciò di cui hai bisogno e soddisfare questi cinque bisogni tutto il resto e in più se soddisfi questi tu sarai sempre felice se non li soddisfi puoi avere tutto quello che la vita può offrirti tutto quello che gli altri possono darti tutto quello che c'è di conquistabile diciamo così a questo mondo ma non sarai felice lo stesso ci sono tantissime teorie psicologiche tutte quante si deve a vedere portano a dei bisogni che non sono fondamentali e tutti quei bisogni che potremmo pensare che hai letto sui libri che ti hanno mostrato nei video che trovi su youtube che leggi o che ascolti nelle presentazioni programmi eccetera si racchiudono sono tutti racchiusi all'interno di quei cinque bisogni fondamentali non c'è altro è tutto lì dentro se tu riesci a soddisfare quei cinque bisogni allora hai tutto ciò che ti serve per stare bene e vivere una vita straordinaria se questi bisogni non sono soddisfatti andrai a cercare qualcosa per soddisfarli tutto si gioca da qui quello che noi facciamo all'interno della masterclass e quindi nella nostra scuola è semplicemente una cosa molto chiara aiutarti a capire come soddisfare questi cinque bisogni in maniera perfetta profonda e definitiva senza più essere controllabile manipolabile senza stare male senza più vivere uno stato di su e giù di alti e bassi come se questo fosse normale noi diciamo ci piace definirlo così nella nostra scuola diventare più forte di qualunque problema cioè avere la capacità di vivere con serenità con gioia e con fiducia quindi con entusiasmo tutte le situazioni della vita anche quelle più difficili come si fa avendo quei cinque bisogni sempre soddisfatti se ti interessa sotto al video trovi un pulsante ti spiega ti porto meglio la pagina della masterclass dove ti spiego come funziona quanto dura quanto costa e nel programma della masterclass se tu entrerai e non vedo l'ora di fare questo percorso insieme a te ti insegnerò come padroneggiare questi cinque bisogni e soddisfarli in maniera piena perfetta e permanente quindi non avrai più il problema fra sei mesi il mio bisogno non sarà soddisfatto no quello che ti spiegheremo ti permetterà di soddisfare questi cinque bisogni fondamentali per sempre se questo ti interessa perché la chiave verso la vita che sempre desiderato ci vediamo nella masterclass perché sarà un percorso straordinario clicca sul pulsante scopri come funziona scopri se puoi partecipare perché non prendiamo tutti ma li selezioniamo e se in questo momento le selezioni quindi le iscrizioni sono aperte io ti do un abbraccio ti do appuntamento nella masterclass di dipendenza emotiva grazie a tutti grazie a tutti